Ok, speriamo che questa bottiglia è importantissima, un trade-on-ah del 1995. Però c'è un bicchiere che la imballa e poi c'è anche il coperchio lì che imballa l'etichetta. Ha tirato via anche l'abbinamento, ha tirato via. Stanno aprendo il Tornese, che è uno Chardonnay del 1995. Sperando che abbia tenuto, il tappo sembra non aver ceduto. E adesso è il momento delicato, è il momento blu. Sembra... sembra... Perfetto. Sembra a posto. Non ci resta che provarlo, amici. Mettilo nel... verso. Ha un colore... è stupendo, non sembra. Senti che profondo. Speciale. C. Buonissimo. Grazie.